Benvenuti alla resegna stampa di lunedì 16 dicembre 2019, siete su Fanno TV, canale 17, come di consueto tutte le mattine alle 7 in diretta ci ritroviamo insieme per leggere e sfogliare i giornali, oggi giornali del lunedì con molto sport, con gli inserti sportivi, ma c'è anche come vedremo della cronaca. Allora il santo di oggi, vediamolo subito con la grafica, oggi è Santa Adelaide di Borgogna, imperatrice, è morta il 16 dicembre del 999, il sole sorgerà alle 7.34 e tramonterà alle 16.32. È caldo, è un caldo anomalo, soprattutto al centro-sud, da metà settimana il trebimeteo prevede maltempo più incisivo, addirittura neve sulle Alpi, ma questo ci sta essendo quasi inverno, il 21 inizierà ufficialmente. Questo è il bollettino di oggi della protezione civile delle Marche, cielo poco nuvoloso, con temperature senza variazioni di rilievo, per domani ancora martedì 17 cielo sereno poco nuvoloso, attenzione a un po' di foschie, anche se poche, e poi l'aumento dell'instabilità, come dicevamo, sulle Marche nella seconda parte della prossima settimana, da mercoledì in poi. Dicevamo però di queste temperature anomale, vediamole nel bollettino di oggi, previste per lunedì, lunedì, eccoli qua, eccole qua, allora, per quanto riguarda le due del pomeriggio, come vedete, a colpo d'occhio, lungo la costa, ancora 15, 16, arriveremo anche a 17 gradi, insomma, temperature decisamente elevate rispetto alla media del periodo. Corriere Adriatico, edizione di Pesero, la cronaca, rapina la farmacia e poi fugge, preso mentre sale sul treno, il colpo in via Fratelli Rosselli, la polizia arresta un tossicodipendente di 21 anni. Fanno nessuna riscossa, Granata ancora battuta in casa, passa la Virtus Verona, vince 1-0 allo stadio Mancini di Fano, la Visi invece pareggia a Salò, 1-1, ma va male ancora per la VL, brutto finale di un altro KO, dodicesima sconfitta in campionato su altrettante partite per la Carpegna Prosciutto, battuta 103 a 87 a Varese. Pestato a sangue in strada, sempre in prima, ma i motivi restano ignoti, grave un 35enne scorso da due ragazzi, gli aggressori sono scappati in via Flaminia. Poi vedremo tra un istante un infortunio che ha gettato nello sconforto i presenti allo stadio di Mondolfo, un 14enne che si è fatto male, poi è stato portato all'ospedale. Questa è la cronaca di Ancona, la prima pagina del resto del Carlino, Sangue e Follia, titola la Fotonotizia. La cronaca riguarda un accoltellamento, un giovane di 19 anni di Falconara che era con un suo coetaneo di Osimo in un bed and breakfast in una zona dei cingoli. A un certo punto ha avuto un raptus violento, ha accoltellato l'amico, poi è andato su questo ponte e si è buttato giù dal ponte e ha fatto questo tuffo nel vuoto nel fiume sottostante. È stato salvato da un carabiniere, è stata trovata della droga nella stanza. Questa invece, e molti giovani probabilmente la riconosceranno, Sofia torna bene con il padre Giovanni e la mamma Nazarena al centro Sofia che è la vincitrice, la stella di X Factor. Lei dice vado al massimo, voglio sfondare nel mondo della musica ma non mi sento una star. Santa Veneranda alza la voce, siamo nel Carlino di Pesero, battaglia per la bretella, basta bugie. Una nuova protesta per accelerare l'iter relativo alla circonvalazione. Residenti non mollano, cartelli e striscioni in mano hanno bloccato la strada per alcuni minuti e dicono ci prendono in giro. Questa è la pagina della Valle del Cesano del Corriere Adriatico che racconta questi momenti terribili allo stadio al campo sportivo di Mondolfo dove è stato soccorso questo ragazzino, un giovanissimo calciatore che milita nella squadra del Santa Veneranda si è fratturato un braccio cadendo male ed è uscito in barella dal campo. Ovviamente la partita è stata subito sospesa e non è stata più ripresa. Questo è avvenuto diciamo nel corso, in una fase di gioco della partita al decimo del secondo tempo, stava ancora 0-0 nel corso del match che si stava disputando tra l'altro con spirito senza eccessi, spirito agonistico senza eccessi. All'improvviso però questo centrocampista del Santa Veneranda dopo un contatto scivolato sul campo nel cadere del braccio sinistro si è appoggiato a terra in modo innaturale determinando quindi una rotazione che ha provocato fratture scomposte al polso all'avambraccio. Ecco tutta la cronaca la troverete sul giornale di questa mattina, la firma di questo articolo è di Jacopo Zuccari. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere. Weekend da sballo, quattro denunci, arrestato un contrabbandiere di alcolici, carabinieri con il cane antidroga nei pressi di due discoteche. Un 28enne finito nei guai, in tasca aveva quattro tipi di sostanze stupefacenti. Poi in due su un ciclomotore per andare a ballare il mezzo è stato posto sotto sequestro. Sono stati effettuati in questo fine settimana da parte dei carabinieri della Compagnia Fanese questi controlli dove è risultato che molte persone durante il fine settimana sono ubriache, guidano pure. La situazione è quella che ormai ci raccontiamo da parecchio tempo, forse troppo, ma questa è la situazione anche nella nostra città. E quindi hanno arrestato i carabinieri un contrabbandiere di alcolici originario della Bosnia e poi denunciato quattro persone per reati che oscillano dall'abuso di alcolici, ubriachezza molesta e guida in stato di ebrezza, alla detenzione di sostanze ai fini di spaccio. Pestato in strada, andiamo a Pesaro invece, viene soccorso da due giovani. È accaduto nella notte nel quartiere di Loreto. Gli assalitori sono in fuga. È stato aggredito in piena notte un uomo che è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni. È in proniosi riservata ma non può spiegare agli inquirenti quanto è accaduto perché al momento i sanitari lo tengono sedato e quindi non è ancora in grado di fornire particolari sui suoi aggressori. È un'aggressione che è avvenuto intorno alle 2.30 di notte. Due giovani pesaresi a bordo di un'auto stanno transitando in via Flaminia all'altezza della zona di Madonna di Loreto. All'improvviso questi due amici hanno visto un uomo aggredito da due persone che lo colpiscono in modo violento facendolo cadere pesantemente a terra. Un pestaggio aggravato dal fatto che la vittima era ubriaca e quindi non era in grado di difendersi. I due giovani non ci hanno pensato un attimo e hanno inchiodato immediatamente perché volevano in qualche modo fermare quella scena di violenza e poi ovviamente dare anche una mano a questo malcapitato. Insomma sul caso stanno indagando adesso i carabinieri. Nelle prossime ore quando verrà svegliato si cercherà di far luce su questo pestaggio. Ma c'è anche un altro fatto di cronaca che è successo a Pesaro. Un ragazzo di 21 anni con problemi di tossicodipendenza mentre era in fuga da una comunità di recupero nel tragitto per prendere il primo treno utile ha pensato bene di mettere qualche soldo in tasca e quindi di rapinare una farmacia. E così cosa ha fatto? È andato in questa farmacia di Pesaro nella zona che si trova in zona mare e ha tirato fuori questo coltello che ho cerchiato qua a destra del vostro teleschermo. Questa è la lama del coltello che il giovane 21enne ha puntato contro la farmacista intimandole di dargli i soldi. Voglio i soldi ha detto, dammi quello che hai in cassa. Non c'era tantissimo, circa 200-300 euro di fondo cassa, però si è accontentato, se ne è andato gettando l'arma non lontano dalla farmacia che poi già in passato più volte è finita nel mirino dei balordi, di vari balordi solitari. Mentre la farmacia, la farmacia che è stata rapinata è quella che si trova in via Fratelli Rosselle, la farmacia Mari, dove c'era la farmacista e nessun cliente. E questo è successo intorno alle 16. Il 21enne è stato arrestato, è stato preso e poi portato nel carcere di Villa da fastidio. Anche perché lui pensava di farla franca con questo cappellino, ma poi alla fine l'hanno riconosciuto. Tra l'altro, e qui siamo sul resto del Carlino, che parla sempre di questa rapina, questo giovane che è di Milano, un giovane milanese, qui l'importo è un po' diverso rispetto a quello che indica il Corriere. Il Corriere parla di 200-300 euro, mentre qui il Carlino dà un'altra cifra, 500 euro. Ma è stato rintracciato dalla polizia alla stazione, è stato preso. Tra l'altro ha chiesto anche un medicinale, ha detto, oltre a che dammi soldi, mi serve il Depalgos sbrigati. Essendo un medicinale a base di opioidi, viene rilasciato su prescrizione medica. La farmacista ha negato il farmaco a questo giovane, pur essendo sotto la minaccia di questo coltello. Alcuni attivi di incertezza, poi il rapinatore è fuggito via, rinunciando a cercarsi il farmaco da solo. Si è preso solo i soldi del farmaco. Ha detto, possiamo farne a meno. In tasca piccolo impone di droghe, invece, siamo sulla cronaca di Fano e Valle del Metauro. Un 28enne finito nei guai vicino alla discoteca. Il fatto è avvenuto a Calcinelli. Il giovane aveva opio, MDMA, hashish e marijuana. Un arresto, invece, per contrabbando, come abbiamo visto, di alcolici, dove è finito in carcere per una vecchia condanna un extra comunitario. Un uomo di origine bosniaca è stato arrestato in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo per contrabbando di grandi quantità di alcolici. Poi la 23enne di Fermignano, Arianna, che andrà in finale, invece, su una emittente televisiva nazionale, credo sia Canale 5. Insomma, anche per lei, esecuzione perfetta della canzone ad agio. I complimenti da Jay Axe, appuntamento al 2 gennaio, quando tornerà su Canale 5, per esibirsi davanti a Michel Unziker e a Jay Axe. Nella puntata, invece, di giovedì scorso, questa 23enne cantante di Fermignano, che ha 15 anni, insomma, ha cantato da Gerry Scotti, ha totalizzato 100 punti, quindi facciamo a lei, naturalmente, i complimenti. Ma a Fano, invece, gliene stanno cantando di tutti i colori, all'assessore Fabio Latonelli, le varie associazioni di categoria e, insomma, la situazione su questi parcheggi che verranno resi a pagamento, insomma, non è che stanno rendendo felici queste feste di Natale e quindi si cercherà di capire adesso cosa succederà, perché Confartigianato sta gridando vergogna all'amministrazione comunale, ma in particolare all'assessore. Si fa cassa a spese del turismo, la Lega che si aggancia e dice speriamo che Tonelli torni lucida, ma chi decide in comune? L'unica difesa per l'assessore Carboni, della stessa lista, che dice il mondo cambia e anche la nostra città deve essere pronta. Quindi questi parcheggi a pagamento, qui siamo nell'ex Sferisterio dove c'erano i carri di Carnevale un tempo, quindi siamo a due passi praticamente dal centro, qui si parcheggia per andare in via Cavour, per andare qualcuno anche all'ospedale, insomma. Ma comunque parcheggia a pagamento al centro storico di De Sassonia, una pioggia di critiche che continua ad abbattersi sull'assessore e sulla giunta, le proteste della CNA, della Confcommercio e della Cooperativa degli Albergatori, adesso si unisce anche con Fartigianato, che parla di una vera e propria vergogna. Il solito tentativo di fare cassa a spese del turismo e degli operatori turistici che da oggi dichiarano lo stato di agitazione e annunciano per la prossima stagione estiva clamorose forme di protesta. E sullo stesso argomento titola così invece il Corriere Adriatico, è l'ora dei conti, una follia, si revochi subito la delibera. Ser Filippi della Lega va all'attacco, scoperto il blitz dell'assessore Tonelli, votazione rinviata a stasera. È una riunione tardiva quella che l'amministrazione ha convocato per oggi con i commercianti su questo controverso provvedimento del parcheggio e pagamento, dato che la delibera è già stata presentata sabato scorso all'esame della Commissione Bilancio, tuttavia considerato anche lo svolgersi di questo incontro, non poco malessere deve essersi propagato anche all'interno della maggioranza, dato che su istanza della Lega la votazione è stata rinviata appunto alla giornata di oggi. Poi il Corriere Adriatico fa un po' di conti, un po' di conti in tasca e comunque insomma certamente questo aumento, questo provvedimento non è affatto andato giù non solo alle associazioni di categorie ma anche alla politica, anche se poi questo è il gioco delle parti. Andiamo a vedere adesso subito l'altra pagina del resto del Carlino, pagina 4 di questa edizione del lunedì del giornale. Multe in agguato a Soria, torniamo comunque a Pesaro, vigili annotano le targhe, queste sono le fotografie, gestori bersagliati per essere arrivati con l'auto davanti alla scuola media, genitori bersagliati, è stato posizionato un divieto con obbligo di svolta a sinistra, ci sono delle proteste, un lettore racconta, mia moglie non è stata contestata l'infrazione, poi invece è arrivata la notifica a casa ma i vigili hanno solo identificato l'auto, ricorda un qualcosa che era già avvenuto a Fano qualche tempo fa. La rabbia di Santa Veneranda invece, a voi la festa e a noi lo smog, una nuova domenica di protesta per i residenti che vogliono la realizzazione della bretella. C'è troppo traffico, smog, anche molti rischi per l'incolumità. Santa Veneranda, un quartiere di Pesaro dunque, che chiede la realizzazione della circombalazione per non far transitare i mezzi sotto l'antico arco. Da domenica 8 dicembre il comitato di questi residenti scende in strada per sollecitare l'amministrazione guidata dal sindaco Ricci. L'antico arco del borgo che da decenni sopporta la gran mole di traffico è diventato il simbolo del malcontento. Anche qui sul Carlino altre fotografie, vedete questa signora che con la giacca rossa e il cartello, siamo stanchi di ricatte e continue bugie, questo è l'arco di cui parlavamo, vedete passano addirittura i pullman, i mezzi pesanti, quest'uomo invece col megafono che urla. Insomma, alla vecchia maniera, queste proteste, bloccata la strada per qualche minuto, vogliamo, dicono la circombalazione, le mamme aggiungono abbiamo paura per la vita dei nostri figli che respirano smog. Proprio nei giorni scorsi lo stesso giornale aveva pubblicato dei dati sugli sforamenti, tantissimi, sia a Pesaro che fanno, l'aria che respiriamo è inquinata, fa male ed è qualcosa su cui bisognerà pensare di fare qualche cosa. Mentre sempre sulla pagina del Corriere Adriatico, un rebus all'avvio dei lavori, sempre a Pesaro al parcheggio del Civitero, un gruppo d'opposizione, prima Cepesaro e Fratelli d'Italia, vuole conoscere i tempi di questa realizzazione. Andiamo nelle pagine interne, quindi con i vari paesi, le varie vallate, qui siamo sulla pagina di Vallefoglia. Mensa bio certificata, nessun aumento, la foto riguarda il sindaco di Montelabate Cinzia Ferri che ha il suo secondo mandato, bilancio di previsione, pesano le strade, il sindaco spiega il documento contabile, fondi per il verde, per le scuole e per le associazioni. Poi un gatto ucciso con il veleno, il bersaglio era il mio cane, il veterinario, tossine altissime trovate nel sangue dell'animale, la paura della proprietaria che è sempre di Vallefoglia. Ed è stato un gatto, che è stato insomma un gatto che è morto per presunto avvelenamento indotto a Morciola. Il veterinario che lo ha visitato ha detto che era da anni che non vedeva una quantità di tale veleno nel sangue di un animale e che ha denunciato ovviamente anche l'accaduto. A Montefeltro, Montefeltro, allarme rosso Avis, mille donazioni in meno dal 2016, il centro trasfusionale è a corto di personale ed è solo la punta dell'iceberg. I volontari ci sono, ma chi raccoglie il sangue invece no. Questa carenza è una volontà politica di depotenziare l'ospedale di Urbino. Stretta sull'evasione delle tasse a Senigallia, il nuovo regolamento dal 2020 scaterà la multa di 250 euro a chi paga in ritardo l'imposta di soggiorno. E poi una tragedia che racconta il Corriere di Senigallia questa mattina in piazza Simoncelli. Muore la titolare dell'erboristeria. È successo poco dopo le 20 di ieri. Daniela Giaccaglia, 65 anni, storica erborista, è morta nel suo negozio colpita da un malore. Immediato l'intervento del 118, i sanitari hanno provato a lungo a rianimarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Questa invece è la pagina di sport. Siamo all'unidì, come dicevamo, all'inizio e quindi tanti gli inserti, tante notizie sportive. Questa è la pagina che riguarda la Serie C, la diciannovesima giornata, che ha visto il Fano, l'Alma Juventus Fano impegnata in casa allo Stadio Mancini contro la Virtus Verona. Il Fano dopo la vittoria con il Cesena, una bella vittoria 4-0 la scorsa settimana, questa volta è tornata un po' al buio ed è un film già visto. Si torna con i piedi per terra, un scivolone casalingo per l'ennesimo errore difensivo, attacco con i soliti problemi, non ha sconfitta nelle ultime dieci partite. I Veneti se ne vanno con tre punti e i Granata non riescono neanche a rimontare. Gatti, e qui ci sono le pagelle, Gatti è bravo a tenere Bada a Badamagrassi, Marino ok, Boccioletti è notevole nel suo ruolo, ma ora c'è da lavorare sul fattore rete, cioè bisogna segnare. Mentre il mister Alessandrini, il nuovo allenatore, lo vedete in questa fotografia, dobbiamo guardare, dice subito avanti, piove sul bagnato, con il Verona non si è visto lo stesso Fano che ha giocato con il Cesena, dopo il gol subito abbiamo perso fiducia. E questa invece è la pagina della Vis, torna a casa con un punto di sostanza, la Vis impegnata con il Feralpi salò fuori casa, i Biancorossi chiudono il girone d'andata in media salvezza e riescono comunque a farsi valere sul Garda, il pari lo firma Paoli. Mentre le pagelle sotto Pugioni, due parate super panitieri, panitieri spinela nel fianco, Voltan si mette in mostra, anche Tessiore in forma, un match d'applausi per il capitano. Questa invece la VL che ha perso a Varese, 103-87, parliamo di basket, il fortino biancorosso crolla dopo 25 minuti, VL sta attaccata a Varese solo finché i padroni di casa non aumentano la pressione defensiva, palle perse e poca energia, è praticamente il dodicesimo KO, mai vinta una partita. Nella pallavolo invece brilla come una stella la Lube che porta a casa altri tre punti, a Padova vince 3-0, i cucinieri prendono subito le redini del gioco e non si fermano più. Percorso netto a Chione, travolta con un perentorio 3-0. E questa era l'ultima pagina della nostra segna stampa, velocemente andiamo a rivedere i titoli di apertura del Corriere Adriatico di Pesaro e il Carlino. Rapina la farmacia e fugge preso mentre sale sul treno. Il colpo invia Fratelli Rosselli, la polizia arresta un tossico dipendente di 21 anni, poi pestato a sangue a Pesaro, ma i motivi restano ignoti. Un 35enne soccorso a due ragazzi, gli aggressori sono scappati su Via Flaminia. Adesso bisognerà aspettare che i sanitari sveglino in qualche modo la vittima di questo pestaggio, infatti è tuttora sedato e ricoverato al San Salvatore di Pesaro. Poi paura invece in un campo sportivo durante una partita di calcio a Mondolfo, un ragazzino di 14 anni cade male, si frattura, si fa male ad un braccio ed è stato portato via con l'ambulanza che però, attenzione questo non ve l'ho detto prima, non era presente lì al campo sportivo, probabilmente il regolamento per queste partite di giovanissimi non lo prevede, ma comunque qualcuno adesso chiede di avere anche in queste partite l'ambulanza presente sul posto. Mentre questa è la fotonotizia del Carlino di Pesaro, Santa Veneranda alza la voce, battaglia per la bretella, basta bugia, c'è questa nuova protesta, alcuni residenti sono scesi in campo per chiedere che i mezzi pesanti non passino più sotto questo arco. E con questa chiudiamo, con questa notizia, chiudiamo qui il nostro appuntamento con l'informazione, con la rassegna stampa, noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale, alle 18.30 invece ci sarà l'appuntamento con Babbo Natale, questo lo dico a tutti i bambini che ci stanno seguendo anche adesso in diretto prima di andare a scuola e poi dopo il telegiornale invece c'è l'appuntamento con Primo Cittadino e questa sera c'è il sindaco di Monbaroccio. Se avete invece segnalazioni, come sempre, chiamateci, scriveteci a questo numero che vedete in sovraimpressione. Arrivederci.